Buonasera, buona domenica e ben ritrovati dopo la pausa estiva a domenica replay, la puntata 1 del nuovo ciclo 23-24. Tanti argomenti, stasera grandissima pagina dedicata al calcio, dalla serie C alla serie D e risultati anche di altri campionati. Partiamo allora dalla splendida Lucchese, sabato pomeriggio la partita del Porta Elisa contro il Pineto, sulla carta una partita che non era affatto facile ma che i rossoneri con una prova davvero superlativa tale hanno reso. Vediamo intanto il servizio con l'andamento di Lucchese e Pineto 3-0. Quella contro il neopromosso Pineto è la terza gara casalinga per una Lucchese che ha un solo obiettivo e tre punti. Occhio però al morale e all'entusiasmo di questa semisconosciuta compagine abruzzese, salita per la prima volta tra i professionisti. Il Porta Elisa è discretamente gremito e la giornata di sole è semiestiva. Gorgone non stupisce con effetti speciali e rimanda al turnover alla Coppa Italia, giocano quelli di Ferrara. La prima chance è per la Lucchese, tonica e determinata all'undecimo con Russo che però calcia alto da posizione comoda. Ma gli ospiti giocano senza timore reverenziale. Al 17 la Lucchese passa, assist difedato per Russo che illumina il Porta Elisa con una magia di classe e di destrezza tecnica. Ma gli ospiti reagiscono e gambale da pochi passi su cross dalla destra, Chiorra salva distinto. Raddoppio, rosso-nero alla mezz'ora, Caparbio guadagni che calcia, non impeccabile stavolta al portiere abruzzese Tonti. Magnaghi è lì e appoggia in rete per il raddoppio. 2-0 per la Lucchese, la partita è gradevolissima. Fedato potrebbe segnare la terza rete appostato sul secondo palo ma arriva con un attimo di ritardo. E Russo impressiona e slalomeggia, sembra il tomba degli anni d'oro. Rosso-neri distratti su palle inattive, questa non è una novità. Grosso da due passi, il palo salva Chiorra. Si va a riposo sul 2-0 tra gli applausi scroscianti del Porta Elisa. Nella ripresa la Lucchese resta padrone, Gorgone ora la vuol gestire, dentro Tumbarello perfedato. Jean-Bevolpicelli che colpisce l'esterno della rete è l'ultimo sussulto degli ospiti. Tris, rosso-nero a 72, gran giocata di Magnaghi e botta dal limite dell'area. Tonti respinge centralmente e rompe guadagni che comodo comodo fa 3-0. Buonanotte, anche se su Lucca splende un caldo sole. Dentro Rizzopinna, Gibril e Rumero, è già turnover e escono i tre marcatori, Russo, Magnaghi e guadagni. Finale puramente accademico, Rizzopinna ha pretroppo il diagonale del possibile poker. Quattro minuti di recupero ma non succede altro. Vince, anzi stravince una bellissima Lucchese. 3-0, i rosso-neri volano e fanno sognare. Questo dunque è il commento sulla partita, sulla bella vittoria della Lucchese che vi diciamo subito. Martedì ore 14 tornerà in campo ad Arezzo, alla città di Arezzo, per il primo turno di Coppa Italia contro la locale formazione Aretin allenata da Paolo Indiani e del direttore generale Paolo Giovannini. Partita secca per cui parità al novantesimo, addirittura sono previsti anche i tempi supplementari. Adesso però, in merito alla partita col Pineto, alla vittoria col Pineto, ci sentiamo il tecnico della Lucchese, Giorgio Gorgone. Sì, sì, abbiamo fatto una buona partita. Potevamo chiuderla prima, poi come tutte le partite, soprattutto di Lega Pro, ma anche in categoria superiore, poi Rischi che torna l'avversario, che crea occasioni, è una buona squadra, organizzata, l'ha dimostrato in queste quattro partite. Quindi faccio complimenti a tutti, perché non era facile. Proseguiamo su questa linea, è un gruppo che sa quello che vuole, è importante. Però poi azzeriamo, c'è una partita importante già martedì contro l'Arezzo e ci teniamo a far bene. Come no, certo. I ragazzi iniziano a giocare a calcio perché gli piace giocare, quindi più toccano la palla e più sono contenti. Noi cerchiamo questo, sappiamo che non è facile perché a volte gli avversari ti costringono a non giocare facilmente. Faccio i complimenti a chi è entrato, lo ripeto, ma sono sicuro che se fossero entrati altri calciatori avrebbero dato lo stesso contributo. Purtroppo le sostituzioni sono cinque, altrimenti in alcuni momenti ne farei molti di più. Non era facile, quindi è una partita che porta tre punti, però dà morale, dà consapevolezza. Però sono sempre convinto che poi la partita successiva si riazzera tutto. Ti porti dietro quello che riesci a fare e quello che sai di poter fare. Senza dubbio lo spazio, coloro che finora ne hanno avuto meno nella Lucchese, magari lo avranno martedì nella partita di Coppa Italia ad Arezzo. Restiamo in Serie C e parliamo, come facevamo già lo scorso anno all'interno di Domenica Replay, di una Carrarese che anche quest'anno è partita fortissimo. La squadra di Dalcanto la vediamo in occasione della gara interna contro la Virtus Entella. Una Virtus Entella invece in grave difficoltà, con questa strana maglia amaranto, la Carrarese si porta in vantaggio al tredicesimo del primo tempo. Cross dalla destra, abbiamo visto lo stacco di Palmieri. Il raddoppio al sessantatresimo, punizione dell'ex rossonero Belloni che probabilmente trae in inganno il portiere De Lucia. È il 2-0 per la franca vittoria di una Carrarese che si propone davvero come una delle squadre più interessanti e anche più forti finora del girone B di Serie C. Passiamo al campionato di Serie D. Abbiamo seguito oggi la partita del Carraia di Ghivizzano, dove il tau calcio, che è tornato dunque a giocare su quel campo che lo scorso anno l'ha ospitato parecchie volte, se la vedeva con il Grosseto. Era un po' il big match della giornata perché erano di fronte due delle quattro capo classifica, almeno fino a oggi. Una volta il primo ottobre cominciava la scuola. Oggi sembra, anzi ancora estate, siamo sui 30 gradi, ma per il tau calcio è già tempo di esame. La gara interna contro il fortissimo Grosseto del Condor Bonuncelli si gioca al Carraia di Ghivizzano. Venturi adotta l'antico adagio, che squadra che vince non si cambia. Gioca l'undici, in completo bianco, ma Ramaldo a Sansepolcro. Il Grosseto è squadra piena zeppa di giocatori top, circa 250 tifosi saliti dalla Maremma. Subito ospiti pericolosi, ma Ricco Bono non spaventa Di Biagio. Brividi si fa perdire in area tau, Marzierli viene frenato in qualche modo da Biagioni, poi il pallone cade morbido tra le braccia di Di Biagio. L'undici di Venturi costretto a fare gara di contenimento. Alla mezz'ora, Grosseto ad un passo dal vantaggio. Palo di Marzierli, poi sulla ribattuta ci prova Rinaldini, col tau che si salva in angolo. Illusione ottica per i sostenitori grossetani sul tiro cross di Bensaia, ex lucchese, che colpisce l'esterno della rete. Allo scadere, però, il gol c'è. Porta la firma del solito Marzierli, che colpisce di testa sul calcio d'angolo, prima di ribadire la rete in semi rovesciata, forse con una scorrettezza. Timide proteste del tau, ma il Grosseto è in vantaggio e con merito. Tutto amaranto l'avvio di ripresa. Subito un colpo di testa di Malva, di poco al lato. Al terzo, Capparella sciupa, una viotto occasione a porta vuota. Ancora tau dal vertice sinistro, Malva tenta il tiro al giro, ma il pallone esce da un soffio. Subito dopo, palo interno di Rinaldini, che si ora raddoppio. Ma il pari aleggia nell'afa del Carraia. Capparella si fa perdonare l'erroraccio di poco prima. Tiro dal limite, stavolta il portiere Raffaelli ci mette del suo, tradito anche da rimbalzo. Terza rete stagionale per il numero 10 di Venturi. Il Grosseto torna a spingere nel finale. Qui Rinaldini non ha la mira precisa. Quattro minuti di recupero, ma non accade altro. Finisce con un eco risultato di parità, che conferma la forza del Grosseto, ma anche quella di un tau pronto a giocarsele a sfidare le grandi del campionato. E domenica prossima, Granderby contro il Seravezza Pozzi. Si torna ad Alto Pascio. E adesso sentiamo anche in questi 92 secondi, per essere precisi, le impressioni dei due tecnici dopo Tao Grosseto, ovvero Simone Venturi e il Condor vitaliano Bonuccelli. Abbiamo fatto una prestazione importante, abbiamo giocato meglio del Grosseto, abbiamo creato più occasioni e penso, senza essere troppo di parte, che è un risultato che ci sta un po' stretto, anche perché il vantaggio loro mi è sembrato, poi lo rivedrò con calma, un netto fallo su Zini, che l'arbitro non ha rilevato, quindi mi è sembrato un ingiusto vantaggio, che poi dopo siamo stati bravi a recuperare. Ci è mancata un po' la lucidità poi di passare in vantaggio, però direi una prestazione di spessore, quindi c'è da fare un grande applauso ai ragazzi. Eravamo andati in vantaggio, era una partita ostica contro una squadra forte, eravamo riusciti a sbloccare il risultato, secondo me il secondo tempo, fin dalla partenza abbiamo pagato un po' di condizione e noi quando la condizione non ci assiste pienamente ci disuniamo un po', è successo anche oggi, dobbiamo imparare quando magari siamo un po' col fiato corto, dobbiamo cercare di essere un pochino più ordinati, più compatti, invece non siamo riusciti, è venuta fuori una partita un po' con grandi spazi, non con grandissime occasioni, ma con grandi potenziali occasioni dalla parte e dall'altra, credo che il risultato sia giusto, alla fine queste partite a volte puoi anche perderle, quindi ci teniamo il punto, abbiamo fatto il risultato in un campo difficile e quindi andiamo avanti e cercheremo di migliorare quello che non è andato oggi. Rimaniamo in Serie D, abbiamo davvero una pagina molto ricca, c'è stato l'anticipo sabato del Givi Borgo sul campo dello Sporting Trestina, siamo in Umbria, siamo nella zona di città di Castello, vediamo com'è andata in questo servizio. L'anticipo della quarta giornata di Serie D sorride al Trestina che porta a casa la prima vittoria al Casini, cancellando gli ultimi due K.O., una prova d'applausi per larghi tratti dei bianconeri di Ciampelli alternata a qualche sprazzo di blackout, sta di fatto che Gramaccio e compagni battono 3-2 il Givi Borgo con la doppietta di Tascini e l'Eurogoldi di D'Inolfo. Un Trestina schierato con un 4-3-3 conto zai fra i pali, Irione con Tucci Sensi e Dottori in difesa, un Moria, Farnete e Gramaccio in mediana con D'Inolfo, Tascini e Belli in avanti. Un Trestina che trova il vantaggio al primo a fondo quando Moria mette il turbo sulla destra, trovando Belli dall'altra parte, palla in mezzo e Tascini in corna da bomber vero. 1-0 Trestina e gol numero 100 in carriera per il puntero Tuderte. La reazione del Givi Borgo, messo in campo da Lelli con un modulo speculare con 8 under titolari, con Becchi in porta, Turini, Vecchi, Sanzone, Pietro Carcani nel reparto arretrato, Poli, Campani e Carli a centrocampo con Giannini, Tommaso Carcani e Orlandi in avanti è tutta in questa conclusione di Pietro Carcani. Il gol così lo trova ancora il Trestina, ancora con Tascini, che sfrutta al meglio un altro assist dalla sinistra di Belli per fare il 101-2-0. Il pubblico del Casini non smette di applaudire. Ci prova poi di Nolfo alla mezz'ora, ma Becchi c'è, quando Omori a liberarsi al tiro sul servizio di Dottori, la difesa del Givi Borgo-Mura. Il Trestina è padrone del campo e la combinazione di Nolfo Tascini con tacco del bomber a liberare il fantasista meriterebbe il gol. Becchi invece ci mette una pezza e salva i suoi. Prima dell'intervallo, Tozai compie il primo intervento di giornata smanacciando in angolo il tiro cross di Pietro Carcani. Proprio all'ultimo tuffo, però, il Givi Borgo accorcia le distanze e il palo colpito da Carli è infatti la bisaglia del gol che arriva al 48esimo. Proprio sul servizio di Carli, che trova sul secondo palo Giannini, inserimento perfetto, e Silva all'intervallo sul 2-1 per i padroni di casa. Sulle ali dell'entusiasmo per il gol, il Givi Borgo parte forte nella ripresa, con Lelli che inserisce forze fresche dalla panchina. Tre cambi in cinque minuti e proprio uno dei neoentrati, Petronelli testa subito i riflessi di Tozai. Il Trestina non vuole saperne di mettere in discussione una partita dominata, e al 56esimo Tascini suona la sveglia, trovando però il piedone di Becchi. A dare lo scossone definitivo, ci pensa così il prestigiatore di Nolfo, che sfoglia il manuale dell'illusionista e al 62esimo tira fuori questa magia. Chapeau e tutti in piedi, è da applaudire uno dei giocatori più forti mai visti al Casini. Subito dopo Crampi e Stenny Govection per il fantasista romano, che lascia il campo e dopo un minuto il neoentrato Nottoli finisce giù in area e l'arbitro piccolo di Pordenone assegna il penalty. Dagli 11 metri va Tommaso Carcani, ma Tozai si supera e respinge. Tre minuti però e Tommaso Carcani si riscatta subito, deviando il rete di testa da due passi l'assist Gigi Bilterra. 3-2 e il Trestina potrebbe subito allungare di nuovo, ma Becchi sceglie bene il tempo dell'uscita sul neoentrato Marietti. Petronelli in pieno recupero ha sui piedi la palla di un clamoroso 3-3, ma la spara sopra la traversa e altri vicefischio di piccolo. La festa è tutta bianconera. E prima di fermarci per la pausa andiamo ad ascoltare anche il giovane tecnico del Giviborgo, Nino Nicolelli, come analizza questa sconfitta in trasferta dei suoi. Sì, è stato, diciamo che la partita non è stata approcciata nel migliore dei modi, però appunto, come hai sottolineato te, c'è stata una reazione della squadra e per questo sono contento, perché è una cosa sul quale stiamo lavorando, è un po' quello di cercare di reagire a risultati negativi e comunque lavorare sugli stati emotivi della squadra. È una squadra molto giovane, forse se non mi sbaglio la più giovane d'Italia o la seconda di Serie D, è normale che possa sbagliare. L'importante è capire gli errori e cercare di crescere il più velocemente possibile riconoscendo gli errori e farne tesoro di ogni errore che facciamo come quello del primo tempo di oggi. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la prima parte di Domenica Replay, torniamo subito dopo, vedremo anche le fasi salienti delle partite del Seravezza, del Real Forte Querceta, tutti i risultati del calcio e ancora tanto altro. Eccoci tornati, vi avevamo promesso di parlare anche dell'andamento delle partite delle due versiliesi. Cominciamo dal Seravezza Pozzi che giocava in casa al buon riposo contro l'Orvietana, dunque un avversario umbro anche per la squadra di Amoroso. Vediamo subito quindi la successione delle reti, grandissimo gol al 17esimo del primo tempo del centrocampista Brian Bedini che porta in vantaggio i suoi. Il pareggio da lì a poco di Ricci con questa mezza girata sporca l'Orvietana ristabilisce la parità. Nella ripresa è Mannucci a portare in vantaggio i suoi con questo diagonale potente, con questa ripartenza e poi di nuovo l'Orvietana davvero indomabile che trova in mischia con Orchi il pareggio, il 2 a 2. Ma nel finale Seravezza si riporta definitivamente avanti con questa altra bella rete di Brugognone, Seravezza. Poi vedremo la classifica che si conferma davvero una squadra molto, molto quotata ed interessante. Ecco, il gol di Bedini è stato veramente straordinario. Trasferta invece per il Realforte Querceta che non possiamo dire sia partito altrettanto bene come la consorella versiliese. Trasferta Alfedini di San Giovanni Valdarno per il Realforte. Anche in questo caso abbiamo il servizio. Mister Bencivenni passa al 4-3-1-2 contro il Realforte Querceta avanzando massai sulla tre quarti dietro a Regolanti e Zar decisamente è accentrato a centrocampo Maglia da titolare per disegni dietro è confermato Timperanza tra i pali mentre a fianco di Rossetti c'è Lorenzoni e Nonfarini. Albero di Natale nonostante il caldo per il Realforte Querceta con al centro del reparto l'ex Vanni. Ci vuole metà frazione per rinnovare il tacquino ma si rinnova anche il tabellino. Coglie infatti il montante Sacchini inare spinta è preda di disegni che dopo un nuovo muro difensivo sulla linea ribadisce in rete il vantaggio del Marzocco 1-0. Non è comunque una frazione memorabile si accende con singole fiammate in bucazzar per Sacchini purtroppo per lui la conclusione è regbistica oltre la traversa. Lo scambio in quella zona del campo si ripete stavolta espirare Massai Zara sul mancino il diagonale che costringe Gatti al corner. Entrano in cronaca anche gli ospiti al 39esimo con la rovesciata di Pegollo che assist a Tognarelli sfiora soltanto il difensore centrale Timperanza blocca. 4 minuti di recupero primo giro aggiuntivo di lancette Gatti è pronto a mettere sul fondo la botta ravvicinata ma defilata di Sacchini partito in posizione regolare. Inizio ripresa e dal limite vanno i saggi ai riflessi di Timperanza abile a tenere palla sul raso terra velenoso. Risponde la San Giovannese da angolo di Sacchini ecco la mischia a zero metri dalla linea di porta nessuno però ribadisce. Il duello tra l'ex Vanni e l'estremo di casa si ripete va ancora a favore di quest'ultimo che chiude la sarracinesca sul tapin da pochi metri rimane quindi il vantaggio valvernese. Entra Podestà nel Real Querceta e si presenta con questa galoppata la sterzata e la conclusione anche stavolta Timperanza c'è poi Pegollo in offside l'azione si ferma. Regolanti minuto 25 si fa notare invece per il pallone recuperato sulla tre quarti ma anche per l'eccessiva fretta di voler calciare verso lo specchio senza precisione. Siamo subito dopo da parte opposta Purro centra per Pegollo incornata alta da posizione più che favorevole. Chi subentra si fa subito notare la regola vana e anche per Caprio girata in un fazzoletto Gatti alza il proprio voto. Ci avviciniamo al finale Caprio stavolta fugge sull'automancino mette in mezzo persenesi che impatta in malo modo col pallone. Si rimane così anche al cinquantesimo quando a nulla vale l'ultima mischia in area della San Giovannese che centra dunque la prima vittoria in campionato alla vigilia del derby con il Montevarchi. Un panorama dunque molto ampio quello dedicato alla Serie D all'interno di Domenica Replei adesso vediamo i risultati non solo della Serie D ma anche di eccellenza e promozione. Quarta giornata in Serie D Figline Pianese 1-2 Follonica Gavorano Montevarchi 1-1 Livorno Sansepolcro 3-1 Poggibonsi Mobiliari Ponsacco 2-1 Cenai San Donato Tavarnelle 0-1 San Giovannese Realforte Querceta 1-0 Seravezzo Orvietana 3-2 Sporting Trestina Givivorgo 3-2 e Tau Calcio Grosseto 1-1 di queste ultime quattro partite vi abbiamo proposto in pratica i riflessi filmati e addirittura anche le sintesi vere e proprie la classifica vede adesso Livorno in testa solitario con 10 punti Pianese Seravezza 9-2 Tau Calcio Grosseto 8-8 Figline 7-7 Gavorano Trestina Poggibonsi Givivivorgo 6-6 San Donato Tavarnelle 5-5 Cenaia San Giovannese 4-4 Montevarchire Alforte Quercete Sansepolcro 3-3 Chiudono Orvietana Immobiliari Ponsacco con un punto Andiamo al campionato di eccellenza quarta giornata di andata Cuoio Pelli Lanciotto Campi 3-0 Fratres Perignano Geotermica 3-0 Massese Camaiore questo era stato un anticipo del sabato 2-2 Montesperto Risport in Cecina 2-1 Pro Livorno Ponte Bugianese 1-2 Tutto Cuoio Fucecchio 1-0 Valdinevole Montecatini Riverpieve 1-0 Zenit Prato Castelfiorentino 1-0 La classifica vede in testa con 10 punti Fratres Perignano Tutto Cuoio Cuoio Pelli Montesperto Risette Ponte Bugianese Camaiore Valdinevole Montecatini Lanciotto Campi 6 Cecina Fucecchio Riverpieve 5 Zenit Prato 4 Massese 3 Castelfiorentino 2 Pro Livorno Geotermica 1 punto Diamo uno sguardo anche a quello che è successo in promozione Qui eravamo alla terza giornata con Alleanza Giovani Lampo Meridian 0-1 L'Arcianese Castelnuovo Garfagnana 0-1 Intercomunale Monsummano Luco 0-0 Poi c'era il derby Versiliese Grande rivincita del Viareggio che in settimana era stato eliminato dalla Coppa che è andata a vincere 3-0 a Pietrasanta Piaefosciana Casalguidi 1-3 Real Ceretese Pontremolese Lunigiana 2-2 San Piero Assieve Malisetti Siano 2-1 Settimello Viaccia 0-1 Questo è un girone dispari Riposava San Marco Avenza Quindi questo è un girone che quando diamo la classifica dobbiamo considerare anche che ci sono squadre che magari hanno già riposato Comunque San Piero Assieve Lampo Meridian 9 Castelnuovo Viaccia Casalguidi 6 Monsummano 5 Viareggio Ceretese e Lunigiana Pontremolese 4 Luco e Larcianese 3 Malisetti Siano 2 Alleanza Giovani San Marco Avenza Pietrasanta e Piefosciano a un punto Settimello ancora a 0 Adesso parliamo delle altre discipline partendo dal basket è cominciato il campionato di serie B interregionale che vede speriamo buona protagonista la squadra del Basketball Club Lucca in realtà non è iniziata nel migliore dei modi sabato sera sul campo al Palace a Montana di Empoli Luce Empoli ha battuto nettamente la squadra lucchese col punteggio di 81 a 59 da segnalare per la squadra di Coccio Olivieri 13 punti di Trentin i 10 di Capitan Barsanti era fuori per infortunio Barbieri ma questo naturalmente non giustifica al di là della forza della Use Empoli una prova meno brillante rispetto a quello che era stato il precampionato della squadra del presidente Benigni adesso riscatto per il Basketball Club Lucca passa dalla gara interna di domenica prossima alle 18 al Palatagliate contro l'Olimpia Legnaia inizierà invece nel prossimo fine settimana il campionato di B1 di pallavolo femminile che vedrà ai nastri di partenza la Nottolini Capannori Nottolini che ha sostenuto nella serata di sabato l'ultimo test precampionato in un triangolare molto interessante che si è svolto a Firenze due sconfitte per la Nottolini nel triangolare precampionato di Firenze la squadra capannorese ha affrontato Castelfranco e liberi e forti sciorinando una prestazione fatta di luce ed ombre il primo match ha visto la formazione di coach Mary Malucchi opposta alla corazzata Castelfranco che non nasconde la volontà di recitare un ruolo da protagonista nel campionato di B1 le pisane guidate dall'ex azzurro Marco Bracci e nelle cui file milita la ex Nottolini Sofia Renieri puntano dritte alla due la formula del torneo prevedeva partite su tre set Castelfranco che si è giudicato il triangolare superando 2 a 1 anche Firenze ha vinto i primi due con un ridondante 25 a 23 che denota però quanto la squadra capannorese si sia battuta bene e non a caso il terzo set se lo giudicavano Venturi e compagni 25 a 22 buona complessivamente la prova corale decisamente meno confortante la seconda partita contro liberi e forti Firenze squadra ospitante 3 a 0 per la compagine fiorentina di coach Guglielmo Pucci anche qui una ex Giada Pecucci più determinate coriace le padrone di casa mentre la Nottoline ha fatto registrare un vistoso calo quello su cui la coach Malucchi dovrà lavorare nei pochi giorni che mancano al campionato di B1 quindi massima concentrazione e attenzione alla fase di preparazione per il debutto casalingo di sabato prossimo 7 ottobre ore 21 contro l'Angelini Cesena in un palapiaggia che si annuncia gremito e curioso di conoscere la nuova Nottolini ci vorrà una squadra tonica e determinata per iniziare al meglio la stagione 23-24 Buone notizie dal mondo del pugilato due medaglie d'argento per la pugilistica lucchese tricolori under 22 vediamo allora i due piccoli eroi al centro della foto vediamo Miria Rossetti Busa che ha conquistato l'argento nella categoria 48 kg campionati italiani under 22 e quello al centro più alto è Ashraf Lecal medaglia d'argento nei 71 kg ai lati i due maestri a sinistra Giulio e Monselezan a destra il maestro emerito Fancelli di Livorno è un bel risultato il maestro Monselezan si è detto soddisfatto di queste due medaglie d'argento anche se Miria e Ashraf hanno perso la finale peraltro contro due avversari fortissimi pensate che Erika Prisciandaro che ha battuto Miria è campionessa europea di categoria e invece Gabriele Guidi Rontani che ha battuto Ashraf è solo vice campione europeo di categoria dunque due belle medaglie d'argento per due ragazzi molto giovani che hanno fatto esperienza un'esperienza che servirà loro nel futuro un bel risultato rimanendo al pugilato anche per la box Giuliano sabato sera sul ring di massa Karim Rezegui ha conquistato il titolo di campione toscano categoria youth 63 kg e mezzo l'allievo di Matteo Minafra ha battuto Leonardo Garzelli dell'Accademia dello Sport di Livorno passiamo al tennis qui invece ci sono un po' luce ed ombre le luci sono quelle che ha acceso Jasmine Paolini che vi dico subito per chi ci sta seguendo in diretta domattina le prime luci dell'alba tornerà in campo intanto però nei 32esmi di finale Jasmine parliamo del China Open a Pechino ha battuto in 3-7 3-6 6-4 6-4 la brasiliana Beatriz Adad Maia è una giocatrice questa brasiliana che pensate è solo tra virgolette numero 19 al mondo quindi Jasmine veramente si è superata con grande orgoglio grande carattere e adesso nei sedicesimi deve stare attenta perché sulla carta ha un'avversaria più abbordabile la cinese Yue Wang però come sappiamo poi le partite vanno vinte sul campo male invece male insomma nel torneo maschile nulla da fare per Lorenzo Musetti il 21enne di Carrara aveva di fronte vero Carlos Alcaraz i due sono quasi coetanei pensate che poco più di un anno fa Musetti aveva battuto nella finale del torneo di Hamburgo Alcaraz Alcaraz è cresciuto molto Musetti forse un pochino meno e in questa partita che Alcaraz si è giudicato 6-2 6-2 francamente c'è stata poca storia chiudiamo con un altro giovanotto di belle speranze Marco Pizzi del tiro a segno Lucca campione italiano bicampione italiano nella categoria allievi 12-13 anni di pistola veloce a 10 metri anche nella pistola olimpica a 10 metri quello di Marco Pizzi è stato comunque solo l'ennesimo risultato di un tiro a segno Lucca che nella rassegna tricolore di Milano ha fatto incetta di medagli eccolo qui Marco Pizzi ricordiamo infatti anche l'oro delle ragazze nella cabina a 10 metri con Elena Pizzi Michela Cerri e Martina Tradati oro tra i master di appunto di Luisa Berti nella pistola automatica aveva già vinto medaglie d'oro Nicola Pizzi sempre tra i master e dobbiamo segnalare infine due medaglie d'oro per l'ex tiratore di Lucca ora in forza alla Marina Militare Michele Bernardi che al primo anno nella categoria senior si è giudicato il titolo nella carabina a 10 metri e anche nella carabina olimpica e qui parliamo appunto di un Bernardi che può essere sicuramente un tiratore già di prospettive azzurre sicuramente e anche speriamo di prospettive luminose a carattere internazionale bene direi che è tutto per questa prima puntata stagionale di Domenica Replay permettetemi di ringraziare per il supporto tecnico ovviamente anche il collega Marco Cervelli per quanto riguarda invece il servizio e le riprese da Ghivizzano non l'ho fatto prima Simone Andreuccetti e naturalmente anche tutti i colleghi a livello giornalistico che hanno collaborato alla realizzazione di questo programma io vi ringrazio di nuovo vi do appuntamento a domenica prossima sempre con il nuovo orario da quest'anno delle 21.45 grazie e buonasera grazie a tutti